Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge ai profeti Non sono venuto per abolire ma per dare compimento In verità vi dico Finché non siano passati il cielo e la terra Non passerà dalla legge neppure uno iota O un segno senza che tutto sia compiuto Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti anche minimi E insegnerà agli uomini a fare altrettanto Sarà considerato minimo nel regno dei cieli Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini Sarà considerato grande nel regno dei cieli Nulla di noi è marginale Perché tutto ci è donato per essere compiuto, colmato Riempito trabocchevolmente Secondo il greco originale Ogni istante infatti è come uno iota in ebraico La più piccola lettera dell'alfabeto Eppure importantissima per definire il significato di molte parole simili E fondamentale per illuminare il senso delle frasi Lo iod, per esempio, è determinante affinché il passato contenga anche la lettera dell'avvenire Per indicare che la storia non è definitivamente terminata E che il passato contiene germi di speranza La nostra vita è dunque una raccolta di iod disseminati sul cammino di salvezza pensato È donato da Dio È una storia che si fa presente come un grembo fecondo e gravido Nell'attesa del compimento Questa è la nostra vita Una storia che è come un grembo È un grembo fecondo e già gravido di quello che saremo Di quello che sarà dato Ce l'ha rivelato Gesù nell'ultimo istante della sua vita terrena Quando, sapendo che ormai tutto era compiuto Disse per compiere la scrittura Ho sete Era la sete dell'aceto che inacidisce la nostra vita Dei peccati e delle sofferenze Ricevendoli quel giorno sulla croce Come l'ultimo iod necessario perché tutto sia compiuto Ha come svuotato il nostro cuore dai peccati E, rifinato il capo Espirato col mandolo del suo spirito Da quel momento Non vi è più nulla nella nostra vita da mettere tra parentesi Rifiutare e buttare via Per vivere pienamente la vita, però È necessario accogliere il senso profondo che Dio le dona Per questo ci ha consegnato i suoi comandamenti sul Sinai Sul Sinai prima e sulla montagna Angarilea, poi Sono il suo stesso amore declinato nella vita dell'uomo Attento a ogni dettaglio E per questo abbracciano ogni millimetro della nostra esistenza C'è tutto Osservarli significa amare nel suo amore Senza disprezzare e sorvolare nulla nella nostra vita e in quella degli altri Ma chi al contrario non è fedele nei particolari Sarà incapace di amare davvero Inciamperà quando urterà contro l'eccezionale di una crisi del coniuge, del figlio, del fratello Lo sperimentiamo, vero? Tipico, tipica di chi pretende di farsi Dio Per questo è condannato ad essere considerato minimo nel Regno dei Cieli Dove è grande l'insignificante, il povero, il peccatore, il debole È molto difficile stanare l'inganno che si nasconde dietro un'esistenza apparentemente apposto e giusta Ma che, nella penombra dei precetti minimi incompiuti, tiene ben salvo il timone dell'autodeterminazione Il demonio, infatti, gioca negli spazi minimi e apparentemente irrilevanti per condurre, giorno dopo giorno A perdere il grande amore nel quale e per il quale siamo stati creati Per questo la superficialità dei superbi si risolve sempre nel diluire il destino celeste in consolazioni minime Succedanei incapaci di saziare Le consolazioni che cerchiamo mille volte al giorno Perfino in un messaggio di Whatsapp Come in uno sguardo dolce Un voto a scuola e una promozione del lavoro Ma coraggio Cristo ha sete anche oggi Proprio della nostra stolta superficialità E nella Chiesa possiamo consegnargli ogni nostro peccato, ogni sciatteria Anche i più piccoli, anche quelli veniali Che forse neanche confessiamo più Ma che sono le gocce che riempiono di aceto il nostro cuore Sino a farlo esplodere di parole e gesti acidi Di orgoglio, di ira, di concupiscenza, ecc Diamogli tutto allora Per essere riempiti trabocchevolmente del suo spirito Anche oggi, fratelli Il Signore distende nella sua Chiesa le sue braccia sulla croce Dove continua ad amarci sino alla fine Compiendo cioè la legge sino all'ultimo iod Le distende nei sacramenti, nella predicazione, nella parola, nella comunione dei fratelli E sulla nostra croce ci attende per accoglierci e donarci compiuta tutta la legge Ovvero l'amore a Dio con tutto noi stessi e al prossimo come noi stessi L'amore tradotto in tutte le lingue e in tutti i gesti che la storia ci chiede Anche i più piccoli Perché l'amore non tralascia nessuno iod, nessun particolare Pulire la casa, studiare una materia insopportabile, cambiare l'ennesimo pannolino L'odore acre dell'autobus affollato di mattina o di sera Il capo ufficio, il traffico alienante, la precarietà economica, il dolore di denti La cellulite e i difetti del nostro corpo, il carattere Anche una malattia incurabile e un fallimento sentimentale Ogni iod che ci è dato, rutinario o doloroso È un frammento dove l'amore di Cristo ha deciso di incarnarsi Per dare compimento alla nostra vita Buona giornata